Ciao ragazzi e bentornati sul canale, oggi vediamo 5 giocatori ingannevoli dopo la prima giornata di campionato Possono essere degli inganni, delle potenziali trappole perché parliamo di 5 nomi che hanno fatto benissimo alla prima giornata di campionato E se non avete fatto l'asta si rischia di pagarli più del dovuto o magari ci puntiamo e non dovevamo puntarci Prima di vedere questi nomi come sempre un like per supportare questo contenuto e se non siete iscritti vi invito anche ad iscrivervi al canale Vi invito anche a scaricare l'app UmaFootball, la migliore app per rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza del fantacalcio Al suo interno trovate gli highlights delle partite di serie A, notizie, curiosità, calcio mercato, le conferenze stampa degli allenatori Tutto ciò che serve ad un fanta allenatore per rimanere aggiornato sulla sua rosa al fantacalcio perché si possono inserire i giocatori della nostra rosa nella lista dei preferiti E l'app ci invierà tutte le notifiche riguardanti i giocatori inseriti Trovate il link per scaricare l'app gratuitamente in descrizione Il primo giocatore ingannevole è Brain Viac Giocatore che è stato anche un inganno lo scorso anno visto che è partita a bomba facendo molto molto bene Però poi non si è confermato Quest'anno parte altrettanto bene Un gol e un assist, 7 e mezzo di voto per un 11 e mezzo totale di fanta voto Ottima prestazione la sua, prestazione convincente Però attenzione, quest'anno la situazione al Milan è diversa Lo scorso anno era praticamente l'unico trequartista centrale che aveva il Milan in rosa Oltre a Krunic che poteva essere adattato o un che sia adattato Quest'anno la situazione è ben diversa perché c'è De Ketelar e c'è Adli Due giocatori giovani, due giocatori di proprietà del Milan, due giocatori su cui il Milan ci punterà Mentre ricordiamo Brain Diaz è in prestito del Real Madrid e dovrebbe comunque trattarsi per un eventuale riscatto Sarà titolarissimo durante l'arco di questa stagione? La risposta è assolutamente no E un giocatore che garantisce tanti bonus? Assolutamente no Mi aspetto che possa essere l'anno della sua consagrazione? No E attenzione a Brahim che magari in più di qualche lega è rimasto svincolato E adesso se farete l'asta sarà un giocatore ben pagato Non puntateci se il suo prezzo sale tanto o va preso a pochi crediti per completare il nostro reparto Da scommessina o magari se volete fare la coppia insieme a De Ketelar Il secondo nome è un altro giocatore che ha segnato ed è Lukman dell'Atalanta È subentrato intorno al 64esimo minuto e ha segnato al 95esimo circa Sicuramente un prospetto interessante di cui abbiamo già parlato però insomma Le sue caratteristiche non si sposano alla perfezione con il modulo dell'Atalanta Per cui in attacco si candida ad essere una seconda scelta, un'alternativa tra la tre quarti e l'attacco Ha avuto la fiducia di Gasperini e questa è sicuramente una cosa positiva Ma io vi ricordo che comunque è un giocatore che non garantisce titolarità E i suoi bonus sono altamente imprevedibili Per cui ve lo consiglio sì come acquisto ma come acquisto da ultimi slot da fare a pochi crediti Non fatevi ingannare dalla recentissima prestazione con il gol Perché sarà difficilissimo da gestire Se sale troppo lasciatelo pure Il terzo nome è Brian Cristante Ha giocato titolare? Sì Ha segnato? Sì Ha segnato il gol vittoria per la Roma? Sì È da prendere al fantacalcio? No Sarà titolare durante tutto l'arco della stagione? No Porta tanti bonus? No Ve lo consiglio al fantacalcio? No Non puntate ragazzi su Cristante Perché ha segnato all'ultima Perché ha giocato Perché non potrà garantire né titolarità né bonus Io non ci punterei neanche come completamento per il reparto Quarto nome Dani Mota Altro nome che ha fatto bene Partendo dalla panchina Abbiamo parlato tanto di lui durante questa estate Di lui e del suo Monza Però lo abbiamo visto e lo abbiamo detto anche Il Monza ha fatto degli acquisti importanti Caprari e Petagna Ha messo da subito in chiaro quali sono le gerarchie Già la prima giornata Con Caprari e Petagna entrambi titolari Dani Mota è un prospetto sicuramente interessante Un talentino Però come Lukman Sarà un giocatore che partirà sempre dalla panchina Ha segnato? Buon per lui È stato bravo? Assolutamente sì Però non garantisce titolarità E non garantisce nemmeno dei bonus regolari Perché sarà difficile pronosticare quando potrà andare a segnare E già ad esempio in questa prima giornata Chi se lo aspettava? Visto che partiva dalla panchina Quindi attenzione al suo nome Per completare il reparto va bene A pochi crediti Ma se il prezzo si alza Lasciate stare Viriamo su altri lidi L'ultimo giocatore inganno È quello un po' più particolare Quello un po' più eccezionale Detto Hernandez È difficile parlare di inganno per To Hernandez Perché tutto dipende dal prezzo Top di reparto era prima della prima giornata Top e comunque dopo A prescindere che abbia segnato un calcio di rigore Quel che dobbiamo stare attenti in questo momento su di lui È il fattore prezzo Se prima Prima della prima giornata Lo suacquistava all'8-9% del budget Adesso c'è il rischio che vada oltre il 10% Vada sul 12-13% In alcune leghe probabilmente andrà anche al 15% Ma attenzione Non sarà lui il rigorista del Milan per tutta la stagione Il primo rigorista è Giroud E quando sarà in campo calcerà lui Sicuramente Teo avrà altre occasioni per calciare Ed è un difensore che può portare tranquillamente 7-8 gol Ma attenzione Non montiamoci la testa Perché non calcerà sempre rigori Quindi non facciamo follie per averlo Va pagato il giusto Va pagato sì Ma non va strapagato Quindi attenzione a Teo Hernandez Per cui se il prezzo si alza troppo È un inganno Bello e buono Bene ragazzi Il video di oggi finisce qui Spero di esservi stato d'aiuto con questo video Vi invito a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto Se non siete iscritti ragazzi Vi invito ad iscrivervi Ad attivare la campbellina delle notifiche E noi ci vediamo al prossimo video Grazie